Giacomo del Bene, tecnico della Ponte Vecchio, ma Domenica che gara è stata? Sotto il profilo delle emozioni, bellissima per chi era allo stadio, perché vedere un 4x4 di questo tipo sicuramente... Giacomo del Bene, tecnico della Ponte Vecchio, ma Domenica che gara è stata? Sotto il profilo delle emozioni, bellissima per tutte le persone che erano allo stadio, per gli addetti ai lavori è stata una partita ricca di... anche di disattenzioni, perché quando fai un 4x4 ci sono anche tanti problemi, però è stata una partita bella, alla fine il pareggio è sicuramente un pareggio giusto, siamo andati in vantaggio, poi perdevamo, poi eravamo di nuovo in vantaggio, poi ci hanno raggiunto e addirittura nel recupero del secondo tempo avremmo potuto vincere la partita. Prima di andare a giocare a Marra probabilmente un punto sulla carta lo metti anche buono, però poi dopo quando sei in vantaggio assapori la vittoria e ti va un po' di rammarico, però bisogna ammettere che il Marra è un'ottima squadra con dei giocatori veramente forti, su tutti i bartoccini e alla fine il pareggio è sicuramente giusto. Senti, poi parleremo anche della sfida di domenica prossima, col senno di poi era il risultato più auspicabile, con una vittoria saresti stato al 90% salvo e ora li consideri due punti persi o un punto guadagnato? In questo momento li considero due punti persi, due punti persi perché abbiamo fatto un'ottima gara, eravamo in vantaggio e solamente per inesperienza, per dei problemini a livello caratteriale che a volte si evidenziano in questa squadra non siamo riusciti a fare tre punti. Sarebbero stati determinanti perché avrebbero permesso di giocare le ultime sei partite guardando addirittura nel miracolo playoff. In questo momento invece siamo ancora costretti a guardarci sotto perché siamo esattamente a metà classifica, a cinque punti dai play-out, a cinque punti dai play-off e abbiamo un calendario veramente brutto perché andiamo ad affrontare Agello, Tavernelle che è in ottima salute, Ponte Valleceppi nelle prossime tre e non è per niente facile, quindi siamo costretti a guardarci alle spalle. Parlavi dell'Agello e la gara di domenica prossima, tre punti sarebbero obbligatori, però tu come hai appena detto a questo punto la salvezza te la devi costruire mattoncino per mattoncino cercando magari di avere anche meno ansia, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Servirà forse un po' più di concentrazione, quello sì. Ma serve un pochino di tranquillità, in questi momenti serve un po' di tranquillità, quando la posta in palio alta chi riesce a avere tranquillità e riesce a giocare nonostante le tensioni alla fine ottiene sempre risultati. Quando hai paura e ti tremano le gambe è impossibile riuscire ad ottenere quello che vuoi. Domenico è una partita importantissima perché giochiamo in casa con una squadra che è avanti a noi, quindi ci teniamo a far bene, ma soprattutto è una partita importantissima per la classifica, come tutte quelle che saranno da qui in avanti.